Palla messa in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa Ecco il tiro, accorciano le distanze, ce ne vuole un'altra adesso ovviamente per pareggiare Splendida la loro reazione, hanno trovato il gol Eh sì, hanno segnato subito la prima occasione utile La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura Eh il tecnico non l'ha presa bene, sono ancora in vantaggio, sì ma ora il loro margine è di un solo gol